Bene, cari amici, grazie per essere qui numerosi questa mattina al nostro dibattito su imprenditoria e occupazione giovanile. Io rapidissimamente voglio presentarvi i partecipanti a questa tavola rotonda. Alla mia destra l'onorevole Vittorio Sbardella, deputato al Parlamento, membro della direzione DC, ma soprattutto nostro grande amico, l'amico vero, l'amico che nei momenti di grande difficoltà ha sempre avuto una grande attenzione ai nostri giovani, alle nostre opere, colui che veramente ha saputo in ogni momento dare una risposta alla nostra richiesta di libertà di impresa. Alla mia sinistra l'onorevole Giulio Santarelli, socialista, deputato al Parlamento, più volte sottosegretario, segretario regionale del Lazio, ma soprattutto anche lui per noi un grande amico, colui che tanti anni fa, negli anni Ottanta, come presidente della giunta regionale del Lazio, per primo lui socialista, ebbe il coraggio di credere fermamente nei giovani che avevano intrapreso una nuova attività imprenditoriale, gli dette fiducia e credete realmente in loro e di questo dobbiamo essergli particolarmente grati. Degli altri due ospiti credo di non dovere dire molto, Giancarlo Cesana e Marco Bucarelli, Presidente del Movimento Popolare e responsabile del Movimento Popolare del Lazio, sono i due nostri amici che più di tutti, ognuno per la parte che gli compete, hanno vissuto in prima persona la realtà dell'imprenditoria giovanile della quale oggi vogliamo occuparci. Rapidissimamente, prima di passare la parola ai nostri ospiti, volevo fare un brevissimo accenno al perché della mia presenza qui oggi come moderatore di questo dibattito. Per quasi otto anni sono stato, prima come commissario straordinario e poi come presidente dell'Istituto per il diritto allo studio universitario, cioè dell'Istituto che fornisce i servizi a oltre 160.000 studenti universitari, colui che forse più di tutti ha vissuto in prima persona l'esperienza dell'incontro con dei giovani che, con grande coraggio, in un tessuto universitario reso difficile dalla contestazione giovanile, dal terrorismo che in quegli anni difficili insanguinò la nostra università, questi giovani con i quali io, pubblico amministratore, mi sono confrontato e dai quali ho ricavato una grande esperienza, non solo di vita ma anche un'esperienza umana indimenticabile. Io darei subito la parola a Marco Buccarelli. Io vorrei accogliere immediatamente nel presentare oggi il libro bianco che credo abbiate ricevuto adesso come che sia stato distribuito a tutti i partecipanti a questa... dico che nel commentare, nell'introdurre questo incontro sul libro bianco, sul famoso libro bianco, che credo abbiate tutti quanti in quanto è stato distribuito ai partecipanti a questa assemblea, non è stato distribuito il libro bianco. Allora c'è un'ennesima defiance della nostra poterosa organizzazione. Vabbè, comunque se non è distribuita alla fine allora potete andarla a ritirare perché è pronto all'uscita. Dicevo comunque allora nel presentare questo libro bianco che non avete ricevuto, vorrei accogliere il giusto invito che ieri ci ha rivolto l'onorevole Giulio Andreotti, l'invito ad essere più buoni. D'altra parte a questo invito a cui vogliamo obbedire non siamo nuovi. Agli inviti che ci rivolge il presidente Andreotti a Roma abbiamo sempre obbedito di cuore. Questo libro bianco, ieri si diceva giustamente, Giancarlo in conferenza stampa ha precisato e solo alcuni giornali hanno riportato, non è un libro bianco contro De Mita. Il titolo del libro bianco è il gigante e la cascina e forse per nostra ingenuità, per qualche nostro errore, per qualche nostra defiance nella distribuzione delle notizie, in sala stampa eccetera, abbiamo forse dato un'impressione distorta che il libro bianco fosse un libro contro De Mita e che quindi questo gigante del titolo del libro potesse essere identificato con De Mita. Sarebbe stato meschino scegliere una soluzione del genere, sarebbe stato meschino un attacco personale del genere, non perché De Mita non ci abbia fatto del male, questo è documentato nella storia appunto del libro bianco, ma perché il problema è la storia raccontata, il nemico di questa storia, il gigante di questa storia non è identificabile con una persona che anche occasionalmente nel corso della storia può aver fatto del male a una realtà come quella del nostro movimento. Non è identificabile in nessun caso con una persona, questo gigante è indubbiamente un potere che va al di là di una persona. Ormai poi tra l'altro questa persona di potere ne ha un po' di meno, anche forse per questa piccola cosa che è la cascina che è citata, che è il secondo personaggio del libro bianco, è la storia che ha rappresentato in questi anni. Ciò non toglie che il gigante resta, ed è per questo e per documentare questo che abbiamo scritto questo libro bianco, un libro che nasce da una volontà di difesa innanzitutto. È stato un fatto clamoroso e anche gli ultimi episodi, gli ultimi avvenimenti di rilievo nazionale ormai come le elezioni, la crisi al Comune di Roma e poi successivamente lo scioglimento del Consiglio Comunale, ora tra poche settimane oramai quasi le elezioni anticipate al Comune di Roma, nascono in fondo da una storia di cinque anni di aggressioni a un gruppo di ragazzi di venti, venticinque, i più vecchi trent'anni, che a Roma hanno tentato di tradurre in opere concretamente quello che oggi viene sbandierata da più parti come una ideologia possibile, di ideologia montante, la dottrina sociale della Chiesa. Perché il potere di questo mondo non ha paura delle parole, anche delle parole cristiane, non ha paura delle dottrine, anche delle dottrine cristiane e non ostacola quindi nelle parole e nelle dottrine, anche se sono cristiane. Il potere di questo mondo invece ha paura della realtà, di fatti veri, anche se sono piccolissimi, anche se sono infinitissimali, come può essere stata ed è stata ed è forse l'esperienza della cascina e l'esperienza della storia del movimento a Roma, ma non solo a Roma, Roma è solo un esempio perché questa esperienza, grazie a Dio, si è dilatata ed è diffusa un po' ovunque in Italia e non solo. Il potere ha paura del concreto, ha paura di una realizzazione concreta ed è stata questa la storia perché non c'è altra motivazione ragionevole probabilmente a un attacco che non ha precedenti, a una concentrazione di forze che vanno dal segretario della democrazia cristiana, al segretario del partito comunista, direttori di importanti giornali contro quello che era un tentativo all'inizio di poche decine e poi di poche centinaia di ragazzi, contro un'esperienza di lavoro, un'esperienza economica che come giustamente notava ieri il presidente Andreotti, paragonata con il crescente neocapitalismo italiano è una formichina. Dicevo una volontà di difendersi, di raccontare fatti puntuali, fatti che non sono stati smentiti da nessuno, fatti che raccontati possono forse prevenire e ripetersi degli stessi fatti, perché lo smascherare della menzogna è la prima forma della difesa, una prima forma di difesa. Dicevo raccontare una storia, raccontare la storia di come è nata fin dagli inizi l'esperienza delle opere, della costruzione di una costruzione di opere a Roma, partendo dall'università e poi man mano che gli anni passavano, aggredendo, iniziando ad affrontare la vita adulta e il mondo del lavoro e di come ci siano delle costanti che in questa storia si sono ripetute. Raccontare come e perché è iniziato, partendo da questa storia, un tipo di rapporto con il mondo politico. Qual è stato il criterio che ha portato a delle scelte politiche, che ha portato a trovarci delle persone ostili e delle persone invece disponibili. E questo, come dimostra anche la tavola rotonda di oggi, non con un rigido schema di partito, perché persone amiche e persone nemiche, tra virgolette, le abbiamo trovate ugualmente distribuite in tutti i partiti o quasi ugualmente distribuite. Ma il criterio, e leggo un brano, il criterio del libretto, il criterio politico, il criterio delle scelte politiche, meglio, che abbiamo seguito, è forse un criterio estraneo direttamente alla politica. Non è direttamente un criterio politico. Non a caso questo meeting è il meeting del paradosso. E questo paradosso è un paradosso che è caratterizzato e che caratterizza un tipo di metodologia di affronto delle scelte politiche. In un'intervista dicevo che l'unico criterio che abbiamo nel giudicare la politica è il comportamento dei politici e quello che abbiamo ribadito più volte in incontri sulla disoccupazione a Roma. La politica viene giudicata dal fatto, se permette oppure no, la libertà di associazione, la possibilità per realtà associative è di poter crescere, anche a livello economico, in una reale autonomia. Crescere, cioè, senza legarsi in maniera clientelare a nessuno, a nessun partito, a nessun uomo politico. La nostra politica è creare strutture autonome di lavoro che a Roma già hanno dato e che possano dare lavoro ai giovani. perché il lavoro, ed è stata questa un'altra scoperta che nella storia si è pian piano affermata, il lavoro essendo la chiave di volta, come dice il Papa, della questione sociale, è il punto su cui la contraddizione, lo scontro con il potere emerge in maniera più evidente. Ma questo criterio, e vorrei leggere e concludere con questo, di scelta politica, di valutazione politica, questo criterio non politico di valutazione politica, ha un precedente illustre. Vorrei rileggere che quello che, sempre sul libretto, è riportato a proposito di San Giovanni di Dio. Quando, o meglio, quello che è riportato sul libretto, lo troverete a pagina 46 poi, quando ne avrete il possesso, è riportato in una lettera inviata all'onorevole Andreotti da un mio amico sacerdote, in cui anche si ribadiva, si diceva qual era il criterio dell'azione politica. E la leggo, leggo almeno questo brano. Nella lettera si diceva, mi perdoni Presidente per la mia insistenza, ma tutta la politica, la mia politica nei confronti degli uomini ecclesiastici e politici è descritta da questo episodio della vita di San Giovanni di Dio che mi permetto riportare. Citato tra virgolette l'episodio della vita del santo. Allorché l'arcivescovo di Granada seppe quanto Giovanni di Dio fosse vicino alla fine, andò a trovarlo e lo confortò con sante parole. Poi gli disse che se avesse qualcosa che gli dava pena gliela dicesse, perché potendo vi avrebbe rimediato, egli rispose, padre mio e mio buon prelato, tre cose mi danno preoccupazione. La prima è quanto poco ho servito nostro Signore, avendo ricevuto tanto tutto da Lui. La seconda preoccupazione sono i poveri che ho a carico, le persone che sono uscite dal peccato e dalla cattiva vita. La terza sono questi debiti che debbo pagare, che ho fatto per amore di Gesù Cristo e pose nelle mani del Cardinale il quaderno in cui erano segnati i conti. Grazie. Grazie Marco. La parola a Giancarlo Cesana. Io ho scritto l'introduzione di questo libro bianco e spero che ve ne siete accorti che è uscito dai giornali, almeno quello, e l'ho scritta per due ragioni. La prima ragione è che questo libro bianco documenta una esperienza che è emblematica dell'azione del Movimento Popolare. Che cosa significa questo? Cioè come potremmo riassumere l'azione del Movimento Popolare? Che cosa è il Movimento Popolare? Il Movimento Popolare non è un partito politico, non è un discorso politico, non è un progetto di società, non è un principio strategico applicato alla società italiana. Il Movimento Popolare, come diciamo sempre, è una compagnia di opere, cioè è una amicizia tra tentativi di realizzazione concreta dentro la società di una esperienza umana nuova, di una possibilità di esperienza umana nuova, che nasce appunto dal cristianesimo. Perché il cristianesimo è un fatto di salvezza per l'uomo concretamente. Cioè il cristianesimo non risponde semplicemente a una specie di bisogno spirituale, tra virgolette, dell'uomo. Il cristianesimo risponde al bisogno di tutto l'uomo. Perché come Cristo, appunto, vorrei riprendere all'incontrario la parabola, come perdonava i peccati, così guariva anche i ciechi, gli storpi. E noi il cristianesimo l'abbiamo incontrato così. Cioè il cristianesimo si traduce in un'opera. Che cosa è un'opera? Un'opera è un'espressione del lavoro dell'uomo in cui si vede chi ha fatto questo lavoro, in cui si vede l'ideale di questo lavoro. Questo è il Movimento Popolare, un'amicizia tra queste opere. E indubbiamente l'esperienza documentata nel Libro Bianco è un tentativo emblematico in questo senso. Proprio da un'esperienza cristiana, da un'esperienza di fede vissuta, è venuta fuori una iniziativa concreta di risposta ai bisogni delle persone che si incontravano nell'università. E quindi l'esperienza documentata nel Libro Bianco è come dire, come l'espressione esemplificativa di tutta l'azione del Movimento Popolare. Noi a questo ci teniamo in modo particolare perché la fede, la fede cristiana, senza le opere è morta. Cioè non si vede. Come si può vedere l'espressione della fede cristiana? L'espressione della fede cristiana la si può vedere solo in una operosità, cioè in una umanità, in una socialità cambiata. Questo non è un progetto strategico sulla società, questa è una proposta. E per noi che si possa vedere questo è fondamentale perché altrimenti la gente, come è stato documentato dalla inchiesta sulla religiosità del sabato, non ci crede più. Perché come può un uomo credere che una novità è nel mondo? Deve incontrarla. Come si incontra questa novità? Si incontra nelle persone che a loro volta l'hanno incontrata e nel lavoro che esprimono. Nel modo con cui si concepiscono di fronte alla realtà. Questo per noi è fondamentale. Noi non cederemo mai su questo punto. Soprattutto perché abbiamo visto, e l'esperienza di Roma lo documenta in modo estremamente significativo, che questo è fondamentale per l'educazione giovanile. Come fanno i giovani a incontrare la proposta cristiana? Devono vederla come una umanità, una realizzazione, che li accoglie, che fa praticare un modo di essere uomini diversi, che mette al lavoro, che dà lavoro, che risponde al proprio bisogno, che dà amicizia, che dà solidarietà, eccetera, eccetera. Questa è la cosa a cui teniamo di più ed è il motivo principale per cui ho fatto l'introduzione di questo libro. Perché noi siamo in profonda unità con questa esperienza e con questa espressione. Ci caratterizza. La seconda ragione è che è quella di far presente che questa, che è un'esperienza così, un'azione così. Monsignor Tonini l'altro giorno diceva che i laici devono impegnarsi nell'economia, nella politica, nella cultura, eccetera. Ecco, impegnarsi nell'economia, nella politica, nella cultura, eccetera. Non è accademia, è un rischio. E il Libro Bianco, appunto, documenta questo rischio, che è stato corso, che è stato affrontato, con tutte le difficoltà che un rischio ha, con tutte le fatiche che comporta, con tutte le obiezioni, gli ostacoli. E lì vengono documentate anche le obiezioni e gli ostacoli, perché, insomma, un gruppo che agisce non può non difendersi nell'azione che porta avanti. Certamente qualche volta ci potrà essere un accento eccessivo, nessuno lo nega. Ma il problema è che bisogna guardare alla sostanza della questione. E l'azione nella società è un rischio, non è appunto un'accademia. Non è una cosa che si fa sotto i portici discutendo come se fosse una questione che non interessa. Per cui, io sostengo anche questa difesa, che come ha detto giustamente Buccarelli prima, non è personale. Non è un problema di persone, è un problema. In questa difesa si mette in evidenza una linea politica che si oppone a questa nostra intenzione, a questa nostra azione. Che si oppone a questa nostra azione su due questioni. Primo sulla questione che impedisce di sviluppare a questa realtà giovanile perché, come diceva il Presidente Andreotti, mette in discussione l'azione di altri. Perché lavorare, agire nella società, costruire qualcosa di nuovo costa, costa sangue. Non è una cosa che si fa, come dire, senza metterci del proprio. E l'obiezione è forte. Non è che si possa intraprendere, fare, dire, eccetera, con tutti che vi dico. L'obiezione è forte. Ma soprattutto l'obiezione è forte proprio sulla ragione della impostazione. Cioè esiste un'obiezione non solo all'aspetto economico e istituzionale della vicenda. Ma esiste anche un'obiezione alla ragione della questione. E cioè un'obiezione a... cioè un tentativo di ridurre la fede cristiana in uno spiritualismo. O peggio ancora, semplicemente in una disciplina. Per cui, se uno si mette agisce e fa... ecco, mette insieme Cristo e gli affari. Sporca. Una fede cristiana così non interessa più a nessuno. Ma si vuole ridurla così perché la fede cristiana non interessi più a nessuno. Questo è il problema, capito? E... E questa è la ragione, come si dice, del nostro insorgere. Poi quando si insorge, si insorge, è chiaro? Ragazzi, io vi garantisco che come ci è stato giustamente suggerito da tutti, noi cerchiamo di essere buoni. E capiamo che dobbiamo essere buoni. Non sto scherzando. Ed è una cosa... non è una battuta. Ed è una cosa cui teniamo profondamente perché siamo persuasi che tutti dobbiamo convertirci. Ma abbiamo il problema di vivere. E non si può negare il problema di vivere a mille famiglie, capite, a Roma. Allora... Allora, per questo ci difendiamo... ma ci difendiamo nel senso di proporre una costruzione e di dire quello che per noi è la fede. La fede è la testimonianza di un avvenimento, cioè di una novità per l'uomo dentro un'opera. Non è l'utopia di una società impossibile domani. È una cosa che si può incontrare oggi. Grazie. Grazie a Giancarlo per queste bellissime parole con cui ci hai profondito. confondamente commosso. La parola a Giulio Santarelli. Rivela già reso noto a voi le ragioni e il momento dell'incontro mio con il Movimento Popolare di uno come me che è socialista fin dalla nascita, perché è nato in una famiglia di socialisti, di contadini e di un socialista però che non è mai stato contro né contro la Chiesa, anche quando andava di moda né contro i cattolici, in quanto espressione irrinunciabile, determinante e decisiva della società italiana. Erano anni bui, il terrorismo era ancora efficiente, attivo, specialmente nella capitale. l'Università era un punto nevralgico scelto non a caso dalla strategia del terrore per colpire uno dei punti fondamentali di una società moderna quale l'Università e mettere in ginocchio lo Stato e la democrazia nel nostro Paese. Ebbene, quello di questo servizio essenziale, di dar da mangiare agli studenti, specialmente quelli che non risiedono, nella città era un momento da non trascurare le competenze della Regione. Ebbene, succedeva una cosa curiosa, a mezzogiorno, quando il pranzo era cucinato, si entrava in sciopero, da mangiare si buttava e gli studenti non mangiavano. In questo caos che determinava in molti tante lacrime ma nessuna azione, ci fu direi provvidenziale, tra virgolette, l'offerta della cascina. Ed io che sono tra coloro che non ritengono il servizio della politica e delle istituzioni finalizzato al soddisfacimento dei propri gruppi, dei propri clan e delle proprie clientele, anche se l'offerta veniva da un movimento che potevo considerare diverso da quello dal quale io provenivo, ho ritenuto che fosse giusto sperimentare e accogliere quella offerta. Mi pare curioso che coloro che oggi si fanno paladini, abbiamo letto anche su qualche giornale questa mattina, di questa teoria secondo la quale il potere, il palazzo, le istituzioni non debbono privilegiare i propri amici, ma coloro che con professionalità, con serietà, sono in condizioni di offrire il meglio, oggi abbiano in questi anni e oggi ribadito questa grande avversione al movimento popolare. Ecco, mi sembra di cogliere in questo una contraddizione. E io credo che invece proprio su questa esperienza di rottura con un passato fatto di lassismo, fatto di, come dire, di incapacità a reagire al caos, al disordine, al disservizio, gli attuali blitz della sanità dimostrano quanto sia profondo ancora il marciume che c'è in tanti settori della società. Insomma, io credo che questo sia stato provvidenziale e abbia rappresentato un elemento di rottura. E devo dire che il dibattito che si è creato quel momento in poi, dentro tutti i partiti, a Roma specialmente, ha messo in evidenza questi due aspetti fondamentali di come deve essere intesa la gestione delle istituzioni della cosa pubblica. Da una parte quelli che dicono, questi chi sono, hanno questo timbro, dunque non devono lavorare. E questi sono quelli che invece oggi affermano il principio della libertà per tutti di operare. Dall'altra parte quelli che dicono, no, la competizione tra le imprese, tra le società, tra le cooperative, non deve riguardare il timbro di origine, la maglietta che portano, il colore a cui si riferiscono, ma deve unicamente riguardare le capacità, la professionalità, la serietà, l'efficienza di un servizio e di un'opera che viene prestata alla società. E sotto questo profilo mi consentirete una parentesi che è un po' una digressione, ma che sta dentro. Lo dicevo in un orecchio a Cesana, ma secondo me voi dal prossimo anno non sarebbe male se pensaste anche ad allargare il discorso. Dico che seguo molto le vostre vicende. Quando ho letto in questi giorni anche il discorso che ha fatto il Papa Santiago di Compostela, quello che ha ripetuto Cesana qui sull'unità dei cattolici, io non posso non comprendere che questo è il punto vero per voi e per tutti quelli che si considerano cattolici. Però credo che vada fatto un passo avanti. Ecco, l'unità dei cattolici, Cesana, ma non in un partito, ma intorno a un progetto di società, di vita e di salvaguardia di determinati valori. Allora forse credo che anche l'Italia potrebbe fare un grande salto di civiltà, di democrazia, perché questo è il punto verso il quale noi andando in Europa dobbiamo guardare. E allora se mi consentite perché il Movimento Popolare si è affermato con questa sua iniziativa e con la Compagnia delle Opere, che tanto fa sorridere molti, è perché ha dimostrato di non essere soltanto impresa. Il Movimento Popolare ha dimostrato di avere alla base valori che vanno al di là del profitto, del reddito, che stanno solitamente alla base di un'impresa. E ha dimostrato di avere un collante ideale che determina partecipazione convinta e soprattutto il senso del servizio da dare, che così spesso difetta in tanto altro tipo di imprese. e questo in un panorama nel quale non soltanto il profitto, il business, come più modernamente viene chiamato, sembra dover giustificare tutto nella società moderna, ha rotto in qualche modo un determinato schema. Allora quello che diceva Andreotti ieri, molto più modestamente, io l'ho detto qualche mese fa, nel pieno del dibattito all'interno del mio partito, quando ho sostenuto che l'opposizione che da sinistra veniva al Movimento Popolare non era tanto dovuta al fatto che le cooperative di comunione e liberazione del Movimento Popolare ritagliavano, sottraevano qualche fetta del business disponibile sulla piazza romana, ma quanto perché intaccavano il monopolio che c'era all'interno specialmente della università e che era un monopolio che dalle opere andava alla politica. Insomma, quando Rivela si trovò a dare uno sguardo a come funzionava tutto il settore del diritto allo studio ne ha trovato di tutti i colori, studenti fuori corso che avevano 50 anni e occupavano le poche camere disponibili del diritto allo studio, mangiavano gratis, camere che venivano poi magari utilizzate per ospitare qualcosa che era contro lo Stato, iniziative illecite, illegali e il tutto che veniva, quale veniva stesso un velo protettore e quindi insomma tutta un'area, tutta una nicchia di protezioni che andavano ben oltre il semplice fatto universitario per investire le questioni più generali della politica. Allora il fatto di aver rimesso ordine, il fatto che in sostanza movimenti, gruppi, forze che avevano proliferato sull'assenza di un minimo di autorità che servisse anche a salvaguardare i reali diritti allo studio di chi effettivamente non aveva la condizione di potersi pagare la retta o l'albergo o la pensione perché tutte queste possibilità venivano occupate da chi non aveva alcun diritto, insomma tutti questi gruppi venivano messi fuori, l'arbitrio, la violenza dei pochi contro la maggioranza degli studenti veniva messa fuori, i diritti di tutti, l'ordine, la normalità che rientravano dentro l'università erano queste le grandi questioni che precedevano poi il termine di quella stagione nefasta per il Paese che è stato il terrorismo. E allora per concludere io ritengo che è qui che si misura la serietà e la verità delle finalità di ogni movimento. Io per esempio, lasciatemi fare anche quest'altra parentesi, quando alla Camera dei Deputati tre mesi fa abbiamo votato la mozione sull'ora di religione, si è realizzata una rottura col passato importante perché partiti come quello comunista per esempio che dal 47 in poi avevano sempre mantenuto un atteggiamento favorevole dall'articolo 7 in poi, hanno votato contro. Partiti come il mio che invece in passato hanno avuto un atteggiamento negativo, si sono trovati da soli a votare la mozione di maggioranza con la democrazia cristiana. Ecco, io avrei preferito che qualche vescovo questo fatto lo avesse rivelato, avesse sottolineato che c'era stata questa novità importante nello scenario politico italiano. E credo che per le famiglie, il 90% delle famiglie italiane, quindi non il 7% che secondo il vostro sondaggio va a messa la domenica, ma il 90% delle famiglie italiane che hanno scelto l'ora di religione, la Chiesa stessa che su questo ha fatto una battaglia importante, doveva registrare, se non rilevare favorevolmente un fatto che introduceva e portava a ulteriore sviluppo l'azione che già il Presidente del Consiglio Socialista Craxi aveva portato alla firma del nuovo concordato. Ma insomma non c'è stato, c'è stata solo la sollevazione verso quella parola che piace molto a Cesana e che piace anche a me, che atto comunista, insomma lì si è difeso da quest'altra parte, quindi per l'amore della verità non sarebbe male che il pluralismo anche dentro i vescovi cominciasse a mettere l'accento anche sulle novità e non si rimanesse fermi a cose che appartengono al passato e che non si iscrivono più nella evoluzione che la società italiana ha subito in questi anni. e per finire allora io dirò, ripeto qui perché tutte cose che chi mi conosce sa che le ho dette negli anni passati e ancora più recentemente, che sarebbe ora di guardare al Movimento Popolare in modo più laico, meno fazioso, non per approvare tutto perché Marco Bucarelli sa che le ultime vicende romane a me non mi hanno trovato molto d'accordo, non mi riferisco tanto al modo con cui lui ha difeso con i denti il suo diritto a esistere e a competere, quanto insomma tutte iniziative che scantonavano un po' e assumevano il sapore della politica, i manifesti per Roma eccetera, ma io credo che bisogna cominciare a dire a tutti di guardare a questo movimento in modo serio, accettandone la sfida. A me ai giovani socialisti che venivano a protestare cinque sei anni fa dicevo voi siete capaci di farmi un'offerta per gestire le mezze universitarie? Portatela, fatemi avanti e se sarà il caso la approveremo. No, non siamo capaci e allora questo vuol dire che la faranno chi è capace, chi si è attrezzato, chi si è messo in condizione di poter offrire un servizio senza spirito polemico ricordata perché io sono certo che anche su questo terreno non sarà né con le campagne dei partiti trasversali né con le mozioni nel consiglio comunale o regionale né tantomeno ricorrendo a magistrati compiacenti che si fermerà un cammino, una scommessa, un rischio, una possibilità di sviluppo. Ed io sempre per andare controcorrente vorrei invece fare un'esortazione a Bucarelli al movimento che è nel senso opposto, cioè osare di più. Noi abbiamo una università nel nostro paese che è come si dice alla ricevuta fiscale, nemmeno alla frutta, è alla ricevuta fiscale, nel senso che langue muore. La nostra università in raffronto a quelli che stanno in altri paesi industrializzati del mondo fa ridere. Non scopriamo ancora la laurea breve noi, mentre tutte le università del mondo, noi saremo invasi con il 92, si parla sempre di questo 92 ma poi in realtà è vicino. Noi saremo invasi da questa figura professionale del laureato di tre anni che ci invaderà in tutti i settori e i campi perché noi stiamo ad espellere i nostri studenti universitari al secondo e al terzo anno perché non ce la fanno arrivare al quinto, però non facciamo ancora nulla per questo. E sì che il Ministero della pubblica istruzione è sempre stato in mani capaci, come noi sappiamo, in tutti questi anni dalla fine della guerra in poi. E allora una università che è chiusa in questa cittadella, arroccata all'interno della cittadella, che ignora la realtà che gli sta intorno, che ignora che tutte le società più indossialmente avanzate hanno risolto il problema della ricerca e dello sviluppo, mettendo al servizio della società, della produzione dell'impresa, i risultati il frutto della ricerca universitaria, che nel nostro Paese è tutta cartaccia, quintali di carte che costano miliardi, ricercatori che poi non servono perché non vengono poi utilizzate il risultato delle ricerche per quanto riguarda lo sviluppo del Paese. E così il territorio circostante, la riqualificazione del territorio, l'arresto del degrado urbano a Roma è nata la seconda università, è stata messa a Tor Vergate, non a Piazza Indipendenza, non perché per un capriccio, è perché lì aveva senso per riqualificare un tessuto degradato della periferia urbana, dell'abusivismo che porta dietro di sé oltre che il degrado urbano anche il degrado sociale, umano, morale. Niente, non esiste al di fuori della cittadella, niente. Tutto è ignorato. Ecco Marco, lasciamo stare dentro l'università i patteggiamenti, una cattedra a me, una a te, quattro a bidelli a me, cinque a te, sette ricerche a me, otto a te. Poniamo, voi che siete creativi, che siete battaglieri, che a un certo punto non avete nemmeno il timore di combattere il palazzo in tutte le sue espressioni, da domani cercate di porre all'attenzione del Paese questo aspetto, questa grande questione nazionale come la riqualificazione, la modernizzazione della nostra università, perché altrimenti il domani per tutti noi, per i nostri figli, sarà un domani molto più difficile. Grazie a Giulio Santarelli e alla sua testimonianza e passo la parola a Vittorio Sbardella. di Davide che aveva colpito il gigante. Credo che il gigante sia stato colpito. Le reazioni in qualche misura sono state scomposte, ma come dicevo, lo stupore dice quanto l'intenzione non fosse quella di colpire una persona, forse la penna è andata un pochino questo libro bianco descrive una cosa, è una spiegazione, è la spiegazione attraverso una storia emblematica che si è vissuta in questi anni. Ci dispiace che sia debordata in un attacco che è sembrato personale a De Mita. Il problema non è De Mita, ci scusiamo con De Mita, speriamo, voglia accettare le nostre scuse, ma detto che il problema non è De Mita, diciamo che il problema esiste. e forse questa reazione, forse questo chiasso che si è fatto è servito a porlo all'attenzione di tutti. Noi abbiamo vissuto questi anni, lo dico perché in qualche misura l'ho vissuta insieme, a fianco, una esperienza incredibile per l'astio, per la faziosità che abbiamo potuto riscontrare negli avversari, ma soprattutto, cari amici, per l'indifferenza degli amici. hanno fatto tutti finta di non accorgersi delle cose che stavano avvenendo. Oggi se ne sono accorti qualcuno grida allo scandalo, rispondo a un corsivo anonimo apparso sul popolo. A proposito di zizzania, qui non ci sono seminatori di zizzania, anche perché non c'è nessun interesse a seminare la zizzania, a dividere gli altri. L'interesse qui è ad essere uniti e a non essere il terreno di cultura della zizzania asseminata da altri. Ieri mi sono divertito, mentre parlava Andreotti, ad osservare alcuni personaggi che forse si sono specializzati in questo tipo di lavoro, nel vedere la delusione che aumentava man mano che avanzava il discorso. La sorpresa, ma come? Non li prende a ceffoni, non c'è nessuna reprimenda. leggiamo tutti i giorni sui giornali le misurazioni della temperatura, del calore con cui vengono espressi i messaggi dei personaggi più fari, dei cardinali, degli uomini politici. Ah, quest'anno è un pochino più freddo dell'anno scorso, sta prendendo le distanze. Cari amici, questa è una realtà libera. Nessuno è in grado di sculacciarla. Proprio per questa libertà, per questa gratuità dell'impegno nella vita sociale. Abbiamo, ho detto, che ci siamo meravigliati, ma forse non avremmo dovuto meravigliarci troppo della insistenza, della faziosità con cui siamo stati attaccati. movimento popolare, le opere, rappresentano una innovazione assoluta nel mondo, diciamo anche politico, nel senso più lato, di lavoro nella società. è la politica che nasce dalle cose, non dai principi, che è innanzitutto una risposta al bisogno. Che poi, oggi, mi sembra anche la migliore definizione della politica. La politica non è astrazione, non sono principi astratti, non sono modelli da trasmettere. Abbiamo visto che i modelli sono tutti caduti. I modelli andravano troppo stretti o troppo larghi, si deformavano, deformavano le persone che erano costrette a stare dentro quel determinato modello. I modelli sono finiti. La politica torna ad essere una risposta ai bisogni reali della gente. Al lavoro. Stiamo vedendo, abbiamo visto le astrazioni, il bipolarismo, il tentativo di trasformare il sistema politico italiano in qualcosa di diverso, ma in qualcosa che ha questa caratteristica, che risponde meglio agli interessi delle classi dominanti. E allora abbiamo cercato di opporci con pochi strumenti, con pochi mezzi, con la presenza. Diciamo anche con il coraggio, con il coraggio di rispondere alle aggressioni. Non per aggredire, ma per difenderci. Ma perché rappresentiamo appunto un'innovazione, siamo qualcosa di nuovo. E l'incontro di movimento popolare, di questa realtà che si muove, che è un'indicazione anche per gli altri a muoversi nella società incontro ai bisogni, che rischia di diventare un modello, un riferimento. Poi, mi sembra Vittadini, nell'opuscolo di presentazione, dice che non bisogna inorgoglierci. Queste sono piccole opere. Il rapporto alla grandezza, agli ordini di grandezza con cui si misurano le cose economiche nel nostro paese e nel mondo. Ma queste piccole cose, organizzate come sono, per il tipo di sinergie che possono mettere in movimento, possono essere un modello, per altre cose, per altre iniziative, per altre cose che nascano dalla società, non necessariamente di movimento popolare, anche altre cose. Ma noi dobbiamo costringere la società a rivivere, dobbiamo spingere la società a vivere, a costruire e a costruire il proprio avvenire, la propria politica. Perché questo è propriamente la politica. Questo è propriamente la democrazia. Noi ci stiamo avviando verso il compimento dell'unità d'Europa. Per questo siamo così preoccupati a livello politico e per questo sottolineiamo l'importanza, la validità di questa iniziativa che nasce dalla società. Noi per il passato abbiamo sostenuto, ma abbiamo sostenuto rendendo possibile la crescita dell'economia e dell'industria italiana. Oggi ci accorgiamo, cari amici, che forse abbiamo anche un pochino esagerato, nel senso che abbiamo consentito la crescita di imprese che da un giorno all'altro possono rappresentare la perdita del nostro investimento. Voi pensate a, non voglio nemmeno nominarle grosse imprese, pensate a quello che poteva succedere con la SME e rapportatelo a cose che potrebbero succedere per altre grandi, grandissime imprese. Il giorno in cui, arrivati al compimento dell'unità europea e queste imprese non riuscissero ad essere competitive nei confronti di altre imprese della comunità, ci potrebbe essere la tentazione di vendere e di abbandonare al proprio destino anche i lavoratori che sono impegnati in queste imprese. E allora vedete l'importanza di questo esempio, di questo modello, per tante piccole esperienze che nascono all'interno cose non grandi ma che possono organizzarsi, che possono creare, come dicevo, delle sinergie per affrontare anche la competizione ai livelli internazionali. Quindi sono cose piccole, è una cosa piccola, ma è un grande esempio che noi dobbiamo cercare di dare e su cui tentare di far costruire una Italia e una società italiana diversa. Grazie Vittorio, io ringrazio i partecipanti a questa nostra tavola rotonda e prima di concludere consentitemi un'ultima riflessione che nasce dall'esperienza di questi anni del mio incontro col Movimento Popolare, nasce dalla lettura di questo piccolo puscolo e nasce dalla realtà delle cose che abbiamo detto qua. Bisogna essere molto attenti per il futuro che la fede religiosa non sia mai un limite discriminante per la presenza dei giovani nel mondo del lavoro, laddove invece troppo spesso la tessera di partito discriminante non è, anzi. Grazie.